Ciao a tutti, volevo usare questo mezzo per ringraziare davvero tutte le persone che oggi mi hanno fatto gli auguri di compleanno perché sono state veramente tantissime. È il secondo compleanno che trascorro da quando la storia della gatta Agatha che saluto in Kosovo è diventata di dominio pubblico e all'epoca avevo 37 anni, oggi ne ho 41 e avrei pensato di tutto nella mia vita tranne che potessi essere ancora qua a parlare di quegli eventi. Quindi da 41enne affronterò il 15 di ottobre la nuova udienza presso il GIP militare di Roma per le nuove accuse che mi sono state mosse, cioè per le ulteriori accuse che mi sono state mosse durante il primo processo. Penso di avere un record nella storia giudiziaria italiana, cioè di essere perlomeno della storia giudiziaria militare italiana perché come ricorderete il 6 maggio 2014 si è voluto ampliare la lunga lista dei reati che mi erano ascritti e quindi siamo arrivati finalmente a capire, o spero almeno, che cosa sarà delle nuove accuse. Ringrazio tutte le persone, soprattutto privatamente, che mi hanno scritto oggi incoraggiandomi a non mollare e a tenere duro. Ovviamente ciò sarà fatto perché è una cosa che devo non solo a me stessa ma anche a tutte le persone che mi hanno sostenuto. So che ci sono molti altri, sia militari che poi anche persone civili, che hanno a loro volta avuto, hanno in corso problemi con la giustizia e hanno visto un po' in me, come posso dire, un riferimento per quanto riguarda le battaglie giudiziarie. Manterrò anche in questo prosieguo del processo, non so se ci sarà un processo bis o che cosa, però manterrò la stessa linea del 2014, cioè quella di fare in modo che la verità trionfi perché il bello della verità è che non cambia mai, che non ci si confonde nel raccontarla e che si possono mischiare le carte come si vogliono, ma la verità vince sempre. Quindi si vede che mi commuovo quando parlo di queste cose perché mi manca la voce. Grazie ancora quindi per gli auguri a me e anche i miei pelosi, che poi Ugo è qui, è che fa finta, ma c'è, e vi auguro una bellissima serata che io passerò con i miei nipotini, con Violante Gregorio e approfitto per fare pubblicamente gli auguri al mio gemello Cristian Balanzoni che adesso che sente sicuramente si arrabbierà per la citazione. Auguri Cristian, ciao a tutti!